No, 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 no. Conosco un panettiere basso, un po' bufo, un po' grasso. Riposa quasi tutto il giorno e lavora dal tramonto. E' tanta la sua volontà, ma quanta farina rovescia qua e là, però come sempre alla fine ci delizierà. Il panettiere pazzo, che sforna come un razzo, figliosce e panini, bocacce e ghisini, in gran quantità. Il panettiere pazzo, che sforna come un razzo, insetti e panini, per tutti i bambini, per mamma e papà. Il nostro amico un po' rotondo, parla poco, mangia molto, il forno è il suo grande regno, lui ci mette molto impegno. E' tanta la sua volontà, ma quanta farina rovescia qua e là, però come sempre alla fine ci delizierà. Il panettiere pazzo, che sforna come un razzo, figliosce e panini, bocacce e ghisini, in gran quantità. Il panettiere pazzo, che sforna come un razzo, insetti e panini, per tutti i bambini, per mamma e papà. La, 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 na, na. La, 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 na. La, la, na, na. Grazie a tutti